Apertamente, volevo fare una breve dichiarazione. Io ho sottoscritto Bruno Fondi nella mia qualità di Presidente della terza Commissione Consigliare Permanente Pianificazione e Sviluppo del Territorio, un comunico al Consiglio Comunale che in data 30 luglio 2019 protocollo 2484 la consigliera comunale signora Elisa Pucci ha formalmente rassegnato le sue commissioni come membro di minoranza della Commissione Consigliare Permanente da me Presidente. Faccio presente al Presi che in data 8 luglio 2019 con protocollo numero 18246 ho formalmente rassegnato le mie dimissioni come membro della Commissione Consigliare Straordinaria del Calcare Commissione che non viene convocata da oltre un anno. Queste comunicazioni si rendono necessarie in quanto, questo è il terzo Consiglio Comunale svolto dopo le suddette dimissioni e sembrerebbe che la surroga dei membri delle commissioni non sia ancora stata messa come punto all'ordine del giorno, come previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle commissioni consigliare. Chiedo alla Segretaria Generale di mettere a verbale questa mia comunicazione o di adottare le dovute verifiche conseguenti procedure ritenute necessarie. Grazie.